Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in a 1, rallentamenti per traffico verso sud tra Rioveggio e Aglio. Per lavori, 2 km di coda tra Firenze in Froneta e Firenze Sud verso Roma e coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In a 11, 1 km di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In FIPD per lavori, code di 2 km tra Lavoria e Ponte d'Araest verso Firenze e tra Cascina, Biba di Navazione Pisa, SGC FIPD in direzione SGC Firenze-Rivorno. Sempre in FIPD per biblioteca esterna che non riceve code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, permangono rallentamenti e restringimenti di carreggiata per incidenti in via Pisana e in via Trieste. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.